Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Rutto Sport, adesso il rutto non lo farò vedere, scusate, il rutto sport non farò vedere alcun tipo, sentire più che altro, alcun tipo di rutto perché questa partita non c'è nulla da rigurgitare, a parte forse un'azioncina di Auge e l'ingiusta ammunizione di Chessy che salterà la Lazio. Laziali siete contenti? Ci batterete perché quella merda di Mariani ci ha fatto ammunire ingiustamente Chessy, ripeto, ingiustamente, Frank, Teo non è stato ammunito, almeno lui, ma Frank non meritava l'ammunizione, veramente, Laziali, vergognatevi che domenica e move per mercoledì vincerete senza che noi chiediamo Chessy, vergogna, ve lo dico gentici perché già so che perderemo. Allora, passiamo a Sassuolo-Milan, commentiamo la ottima partita dei rossoneri, veramente eccellente partita dei rossoneri, purtroppo non hanno, cioè 2-1 purtroppo ci sta anche stretto perché meritavo il 3-4-0, il Sassuolo ha giocato ma non ha fatto occasioni verissime, cioè il Milan è stato anche abbastanza attento in difesa, solo all'ultimo minuto, Boga, Romagnoli si fa pure ammunire, errore di Krunic e di Romagnoli, anche giocheranno con la Lazio, ahimè, pigliamo l'imbarcata, ma vabbè. Dicevamo, e quindi purtroppo Berardi ci fa il suo nono gol, però stavolta, caro Berardi, è veramente un gol, cioè, come dire, fittizio il tuo, veramente falsissimo, colpa di Auge, se no col cazzo che lo facevi. Comunque, gol o no di Berardi in generale il Milan, come in totale la media più o meno è 6,5, quello adesso a Sassuolo è quantomeno 5, cioè, che partita fallosa e stupida che avete fatto. Qualcuno di forte c'è, tipo Boga, scusate, forza Milan, diciamo, Boga è molto forte, lui è un gran giocatore, ma pure per certi versi burà bianco, lui ha fatto bene, io ce l'ho il fantacalcio, ma gli altri, Berardi, chi è scroccone, chi fa fallo, chi si butta a terra, patetici. Comunque, partiamo del Milan, che adesso, nonostante in emergenza, infortuni, estrema emergenza, devo dire la verità, mi è piaciuto come ha giocato, veramente ha reagito bene il Milan. Allora, Donnarumma, 6,5, bravissimo Gigi, purtroppo, come hai fatto, non potevi fare nulla sull'autorete oramai di Auge, perché non è affatto un gol di Berardi. Grazie per le parate, ma anche grazie per avergliene dette 4 e digliene a Peter, veramente, perché se ne metta stavolta, bravo giocatore è tutto, ma stavolta, amico mio, hai fatto veramente fetechia. Però, capita. Teo Hernandez, 7, anche per l'assist per il gol di Selemakers, grandissimo Teo. Calulù, 6, la partita è sufficiente, sicuramente più di quella di Romagnoli. Romagnoli, 5,5 per il giallo, se no era 6 come Calulù, non hai nulla da invidiare a Calulù, sì, parliamoci chiaro, però Calulù è stato più attento rispetto a te. Calabria, 6,5, è un peccato che ti hanno ammonito, perché sei stato bravissimo durante tutta la partita, sei stato veramente bravo Davide, veramente molto, molto bravo. Andiamo? Che sì, 6,5, ammonito ingiustamente, salterai la Lazio, però complimenti Franco in ogni caso, per aver giocato discretamente, bravo, mi dispiace solo che ti hanno ammonito ingiustamente. Finiamo il 2020 perdendo con la Lazio, pazienza. Dicevamo? Tonali, Tonali 6,5, sei uscito per sicurezza, ma anche tu nel primo tempo bravissimo. Krunic, è uscito, è entrato al posto di Tonali, senza voto, non ti voglio dare un voto perché non so che voto darti, sinceramente, non hai fatto molto. Se le Makers, 7, anche per il gol, complimenti Alexis, veramente in attacco il Milan sta messo molto, molto bene, speriamo di farlo altrettanto. Allora, Brian Cialanoglu, 6,5 per l'assist per il gol di Leao, il gol più veloce della Serie A l'hai causato tu, grande Akan. Quindi anche Akan Cialanoglu entra nella storia, oltre a Leao, sia chiaro, l'assist e il gol. Allora, Brahim Diaz, 6, troppo innamorato del pallone Brahim, ma stavolta hai fatto bene, stavolta. Leao, meravigliao, 8 per il gol, 8 per la determinazione, Pioli, fallo giocare prima punta! È questo il suo vero ruolo, porco tutto. Andiamo avanti, ho visto un po' l'orario, scusatemi. Allora, 7 qualcosa, allora, Krunic senza voto oggetto, Aughe, 4,5, colpa sull'1 a 2, che è Peter. Vabbè, dai Peter, te la perdono stavolta, ma giusto perché stavolta veramente hai fatto... Forse non ti capisco, anch'io l'ho fatto per paura di la pallonata, però dovevi, a sto punto, dovevi provare a tenerla, insomma, la palla, capito? Dovevi provare a... Dovevi provare assolutamente, lo so che fa male, ma a sto punto prova a tenere e alzare col petto, Che fai prima? Che fai prima, capì? Comunicene, prima lo intendo dire, che fai prima a pararle, non ti fa male. Vabbè, comunque, Aughe, ho già detto, Castiglieco, 6. Bravo Samu, la giocatina che all'inizio non era male, però purtroppo Peter ha sbagliato di poco. Ripeto, non è tutta col poso povero Aughe, però, insomma, capita. Bravo Castiglieco. Maldini senza voto, purtroppo anche un giallo ti sei preso. Non mi ricordo se era a te o no, però comunque non è restazione da voto. Pioli, 6,5. Complimenti Padre Pioli, veramente ha gestito bene finora una situazione in cui veramente stiamo con le pezze al culo. Grande Milan, comunque, ma speriamo con la Lazio, forza Milan. Ma comunque, forza Milan a prescindere, forza Milan, insomma, sempre a prescindere, dai. Coraggio. Bene, ragazzi, il video è finito, ci vediamo la prossima volta. Sempre forza Milan, lo ripeto.